C'è una cosa bella secondo me nelle sfide ed è che sono incredibilmente sexy, come una caccia al tesoro, il fatto di riuscirci alla fine è una sensazione incredibile, bellissima. Voi ne avete davanti una oggi e ne avete davanti una per la vita. Usatele bene, godetevi il lato bello di questa avventura. In bocca al lupo!